Ehi la ciurma! Io sono Mazzetessa e questo è il diciottesimo video di seguito che sto registrando Oggi domenica primo febbraio 2015 LOL Comunque siamo sempre qui con il nostro carissimo Mozzo E l'abbiamo appena uppato di tutte cose nello scorso video E siamo pronti per l'avventura insomma Per fare davvero di Mozzo una persona splendida Persona? Non è una persona? Vabbè LOL E ci siamo capiti Una creatura splendida che possa trovare il suo futuro Yeeeh! Ok adesso andiamo a vedere che cosa c'è qua intorno Qua c'erano dei tizi cattivi o ricordo male? No forse non ricordo male Forse ricordo proprio bene ma... Nooo! Guarda che belli! Ne voglio uno! Ma sono bellissimi questi wobbo l'alfa Cantano Noi siamo più bravi a cantare Ok loro sono più bravi a... Fascino Basta! Perché continuate a fare quello? Sono molto più bravi a cantare Sono molto più bravo Sono molto più bravo Oh! Ramo decorativo fascino 3 LOL grandioso Cantate cantate Porca miseria No! Dovete cantare Yeah! Oh! Oh bisogna cercare sempre di fregarli questi qua Però questi mi stanno davvero simpaticissimi Sono tenerissimi Degli occhioni... Troppo belli Yeeeh! E poi non la faccio anche fatta bene A me non viene fatta bene così Oh io toglierei questo qua E prenderei invece lui nel mio gruppo Perfetto Ecco noi Mi piace troppo Mi piace troppo Cosa sono? No ho vomitato Perché non posso Mangiare carne Ma tutti questi bacelli qua Non so cosa... Non so cosa siano questi bacelli qua Non posso neanche attaccarli Boh Pollicione Ballo 2 Ma io ballo più... 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 Cosa... Volevo vedere cosa c'era là Impressioniamo questi Balliamo meglio Cantiamo meglio Prendiamo anche questo No ti ho detto di prendere questo E poi Ehi 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 Cantiamo decisamente Strameglio Perfetto Chi sono questi che saltano? Dove è andato? Boh Che è successo? No ci sono delle comete Stanno cadendo delle comete Via 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 Salviamoci Se salvi chi può E chi non può Non si salvi Oddio No 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 Via 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 Questi ci uccidono Alla grande Ecco sono anche più veloci di me Adesso mi uccideranno i compagni Dai compari Che bellino Stupidi Mi hanno ucciso gli alleati E mi hanno ucciso anche a me Che barba Che barbiturici Che barba papà Però abbiamo un bastoncino Forse riusciamo a fare L'upgrade Del fascino Abbiamo abbastanza punti Forse si Siamo appena nati Già ci accoppiamo Ma questa era la nostra madre Scusa Ma che che Vabbò Ok Abbiamo un posa 4 anche Allora togliamo questa Mettiamo un posa 4 E vediamo se riusciamo a mettere Un fascino Più 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 oso Sì Sì Delle corna Ragazzi Delle grandissime Gloriose corna No però così lunghe No magari no eh Così Sì E Io direi quasi Pronti partenza via Però Facciamo a che fare Semplicemente Alleanza con alcuni Dei nostri E E Boh Perché nel senso Abbiamo Bisogno di Qualcuno Che ci assista Ok Tu Perfetto Detto questo Io direi che possiamo Salvare Partita su pianeta Tarantella È stata salvata Ragazzi Mi spiace Per la durata Del video Ma come potete Ormai sapere Non ho Particolare tempo In questo periodo Quindi sto registrando Tutto insieme E Vi ringrazio Per la visione Davvero Vi invito a lasciare un mi piace Se per caso Se per caso siete arrivati Fino a questo punto Lasciare anche un piccolo commento E iscrivervi al canale Se per caso Non l'aveste già fatto Per me Davvero Conta tantissimo E Ci vediamo nel prossimo video O Il prossimo video di Spore Che non so quando uscirà Nemmeno so quando usciranno I prossimi video Perché Ho perso il conto Non so Che giorno siamo Oggi Diciamo di caricamento Dei video So solo che siamo Il primo febbraio E che questo è il diciottesimo video Che sto registrando Di fila Ciao ragazzi Un abbraccio a tutti E buona giornata E buona giornata